Il Messico attende con gioia Papa Francesco per il suo dodicesimo viaggio apostolico e per far respirare al pontefice il clima della vigilia ha inviato tramite l'agenzia Notimex un video. Saluti e riflessioni si alternano con diverse domande che spaziano dalla Vergine di Guadalupe al tema della pace e della migrazione. Papa Bergoglio rivolge a tutti un saluto e risponde all'attese del popolo messicano, un popolo non di rado in difficoltà ma che resta saldo nella fede. Avete grande ricchezza nel cuore e soprattutto non siete un popolo orfano perché vi gloriate di avere una madre. E quando un uomo, una donna o un popolo non si dimentica della propria madre, questo gli dà una ricchezza che non può descrivere, la riceve, la trasmette. Speriamo che il Papa ci possa far aprire gli occhi per dire no alla violenza, no alla violenza contro le donne, contro i bambini, no alla violenza. La pace è un lavoro artigianale, un lavoro di ogni giorno, che si impasta con le mani. Da come educo un bambino a come accarezzo un anziano. Sono tutti semi di pace. Parola e carezza. La pace nasce dalla tenerezza. La pace nasce dalla comprensione. La pace nasce o si fa nel dialogo, non nella rottura. Ed è proprio questa la parola chiave, il dialogo. Dialogo tra i dirigenti, dialogo con il popolo e dialogo tra tutto il popolo. Spero ci faccia uscire dal nostro letargo nel vivere la fede, perché non sia solo una fede vissuta in chiesa, ma una fede vissuta nelle strade, al lavoro, in ufficio, nella politica, nei media, perché dobbiamo essere seminatori dei valori evangelici. Che nel mondo ci sia una crisi di fede è vero, ma è anche vero che vi sono una grande benedizione e un desiderio da voi espresso che la fede esca fuori, che la fede sia missionaria, che la fede non venga inscatolata come in un barattolo di conserva. La nostra fede non è una fede da museo, e la chiesa non è un museo. La nostra fede è una fede che nasce dal contatto, dal dialogo con Gesù Cristo, nostro Salvatore, con il Signore. Ebbene, questa fede deve uscire nelle strade, deve entrare nei luoghi di lavoro, deve realizzarsi nell'intesa con gli altri. Questa fede deve esprimersi nel dialogo, nella comprensione, nel perdono, nell'arte quotidiana di combattere per la pace.